Il Vice-Sindaco Fusignani è tornato ad affrontare il tema della sicurezza e dei gruppi di cittadini attivi sul territorio. Questa mattina abbiamo parlato direttamente col Vice-Sindaco che ha assicurato la nostra idea è quella di valorizzare le potenzialità dei gruppi e non di smantellarli e di lavorare con i referenti scelti dai membri dei gruppi creando un canale diretto con le forze dell'ordine. Al nostro insediamento abbiamo annunciato quelle che sarebbero state le linee di intervento per migliorare l'efficienza nel settore della sicurezza. Una delle tre linee di intervento era proprio quella di mettere a regime e di ottimizzare al meglio la grande risorsa dei volontari che in varie realtà del territorio si sono già organizzati in gruppi di controllo di vicinato facendo ovviamente tesoro delle esperienze già in essere di quelle già codificate a livello nazionale e Ravenna ha cercato e adesso sta concretizzando di mettere in pista una sua proposta che io ho cercato di tradurre al meglio non per limitare come qualcuno sta surrettiziamente dicendo non per limitare l'operato dei gruppi ma per ottimizzare la grande e straordinaria volontà di tanti cittadini che vogliono essere partecipi del sistema della sicurezza. Quindi in pratica si tratterebbe di coinvolgere quegli stessi cittadini però in una struttura un pochino organizzata in maniera diversa? In pratica si tratta di andare a parlare con i cittadini che già sono organizzati in gruppi Whatsapp e dove non sono ancora organizzati, in diverse frazioni non esistono ad esempio io uso banalmente il termine gruppi Whatsapp per dire gruppi di cittadini che in ogni caso desiderano partecipare al controllo di vicinato. Quindi andare dove già questi gruppi sono esistenti a parlare con i gruppi esistenti dove non ci sono andare a costituirli. Ovviamente i gruppi al loro interno, non l'amministrazione comunale, non altri i gruppi al loro interno devono individuare loro due o tre referenti del gruppo e questi referenti verranno debitamente formati dalla Polizia Municipale e dotati dall'amministrazione comunale di applicazioni per i loro strumenti smart o non escludo anche in un prossimo futuro di dargli in dotazione degli strumenti diversi in modo tale che possano solo questi tre referenti scelti, lo ripeto per l'ennesima volta scelti dai gruppi, non scelti dall'amministrazione, scelti da loro stessi avere questi strumenti che possano dialogare direttamente con le centrali operative. Questa è l'idea, questa cosa qui ovviamente serve anche, formando due o tre referenti serve anche a dargli a loro degli strumenti di decodificazione delle informazioni che nei gruppi oggi circolano. Io ho potuto notare che alcuni gruppi sono già efficienti e funzionano già da sé, altri gruppi, non sto a farne una graduatoria, stanno operando in maniera del tutto inappropriata. questo serve anche ad ottimizzare, nonostante la volontà, stanno operando in maniera inappropriata e lo ripeto, alcuni gruppi, non sto parlando di tutti i gruppi e nessuno si deve sentire imputato in questa cosa. Noi cerchiamo di dargli degli strumenti per efficientare al meglio il grande lavoro che già adesso stanno facendo e in ogni caso, anziché alimentare polemiche inutili strumentali sui social, sarebbe molto meglio che chi ha dei dubbi telefoni in amministrazione e chiedi un appuntamento con sottoscritto che sarò ben lieto di spiegargli per filo o per segno quella che è la nostra intenzione, che non è un'intenzione limitativa, ma è un'intenzione al contrario di efficientamento della loro capacità di intervento e soprattutto per dargli degli strumenti per renderli veramente utili al sistema della sicurezza territoriale. Quindi l'idea non è quella di smantellare i gruppi già esistenti, ma di valorizzarne le potenzialità? Assolutamente no, non ci penso nemmeno. Io non è che posso smantellare i gruppi esistenti, anche perché i gruppi esistenti nascono dalla volontà spontanea di cittadini ed è anche questa una parte di volontariato. Il volontariato è una delle risorse più straordinarie che il nostro Paese e anche Ravenna riesce a mettere in campo. Senza il volontariato le risposte delle istituzioni, buone o cattive che siano, sarebbero meno buone o più cattive sarebbero senza il volontariato. Non ci penso nemmeno a smantellare il volontariato, io lo voglio valorizzare e lo voglio efficientare, gli voglio dare gli strumenti perché sia efficiente al massimo. E ripeto, i referenti, perché ovviamente non possiamo dotare, formare e dotare migliaia e migliaia di cittadini, i referenti non li scelgo io, li scelgo io.